Dove va l'innovazione, dati e prospettive, focus ieri pomeriggio ad incubatore stecca nell'area degli ex molini meridionali Marzoli a Torre del Greco, un'iniziativa promossa da Confindustria Salerno e premio Best Practice. Un'occasione di confronto per discutere di progetti innovativi e cultura di impresa in campagna. Abbiamo l'onore di essere la prima tappa della 17esima edizione del premio Best Practice che presenta i risultati dell'ultima edizione e quindi dei trend che riguardano l'innovazione in campagna. Oggi è presente il nostro ecosistema dell'innovazione, ci sono le nostre start-up, i nostri partner, coloro che ci supportano in questo faticoso lavoro di semine e diffusione della cultura dell'innovazione sottore del greco per cui siamo lieti di poter contribuire con le nostre competenze, con la nostra attività di animazione ad alimentare questo meccanismo dell'innovazione dell'area vesuviana e attore del greco in particolare. L'innovazione è sicuramente il motore dell'attuale sviluppo tecnologico per le aziende in campagna e anche a livello italiano ed europeo. Chiaramente in campagna l'innovazione prende una piega particolare perché è molto legata all'economia del territorio. La bioeconomia è uno degli ambiti più importanti per la circolarità, per l'innovazione e che in campagna ci sono parecchi investimenti sia dal punto di vista della regione che dell'Europa per questo settore. La giornata di oggi l'abbiamo costruita attraverso delle analisi svolte su alcuni ambiti particolari di sviluppo molto moderni, molto attuali che riguardano tutta l'economia dell'agritech, del greentech, dell'aerospace. Sono tre aree in cui il mezzogiorno e la campagna rappresentano un peso e una rilevanza importante per il territorio nazionale e quindi l'idea è partiamo da queste aree dove ci sta grande volontà di fare impresa, grandi progetti, idee, c'è anche una struttura accademica che ci dà sostegno e grazie a queste idee cerchiamo di portare avanti poi l'economia del territorio. Stiamo andando in un futuro sempre più veloce e quindi è molto importante in questo futuro creare connessioni di valore tra i stakeholder dell'innovazione con i partner come Stecca, gli incubatori, gli acceleratori perché l'innovazione si fa in confronto e in supporto di competenze e gli incubatori e gli stakeholder come Stecca è importante che siano valorizzati all'interno di un ecosistema ampio come il nostro che è quello del premio Best Practice ormai è arrivato alla 17esima edizione, l'anno prossimo diventeremo maggiorenni con 18esimo anno. Per la Banca di Credito Popolare l'innovazione è uno dei pilastri del piano strategico, noi abbiamo declinato un concetto di innovazione che si intersega con la nostra visione anche di sostegno al territorio. Noi siamo partner di Stecca, abbiamo sottoscritto un accordo di partenariato con l'incubatore scientifico perché crediamo nel sostegno alle start-up e soprattutto vogliamo essere vicini ai giovani imprenditori che vogliono strutturare dei progetti realmente innovativi.